Il cantautore Virginio Simonelli è tornato sulla scena musicale italiana con il singolo Amarene, dopo anni di assenza dai riflettori. Vincitore di Amici nel 2011, ha presentato il suo nuovo brano nel programma di Maria De Filippi, dove ha ottenuto la fama. La sua carriera, iniziata nel 2006 con un debutto a Sanremo Giovani, ha conosciuto Alti e Bassi, ma la vittoria ad Amici ha segnato un punto di svolta nella sua vita. Oggi Virginio non è solo un cantautore di successo, ma anche un apprezzato autore per artisti internazionali come Laura Pausini. La sua collaborazione con la Pausini ha portato a importanti riconoscimenti, tra cui un Latin Grammy Award nel 2018. La sua musica ha conquistato un pubblico affezionato non solo in Italia, ma anche all'estero, grazie alla sua capacità di scrivere testi che toccano il cuore delle persone. Oltre alla musica, Virginio ha condiviso la sua esperienza personale riguardo al bullismo. Durante un'intervista con Silvia Toffanin, ha raccontato di episodi di violenza e discriminazione che ha affrontato da adolescente a causa della sua diversità. La sua storia è un messaggio di speranza per i giovani che si trovano in situazioni simili. Il sostegno della sua famiglia e un percorso di terapia lo hanno aiutato ad accettarsi e superare momenti difficili. La musica è stata una salvezza per Virginio, permettendogli di esprimere le sue emozioni e connettersi con il pubblico. Con il produttore cinematografico Nicola al suo fianco, Virginio vive una vita piena e soddisfacente, continuando a scrivere canzoni che parlano di esperienze.